Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono DJ Peck, quest'oggi torniamo a parlare di musica, più precisamente di X-Factor che ieri ha visto dare la luce ai ragazzi di X-Factor i loro inediti, devo dire che mi hanno ben favorevolmente impressionato tutti gli inediti, più o meno, chi più chi meno dei vari ragazzi, devo dire che quest'anno inediti veramente di buona qualità, ci sono stati almeno un paio che veramente secondo me spaccano, anzi tre che a me mi sono piaciuti particolarmente, che spaccano di brutto e comunque ripeto, tutti gli otto inediti sono veramente godibili e niente stimola il fatto che nelle prime 20 posizioni della musica più scaricata da iTunes di oggi, oggi siamo a merdi, le prime posizioni sono tutte occupate dai ragazzi di X-Factor, ci sono tutti proprio e addirittura le prime quattro posizioni, c'è l'una al quarto posto, i Bowlen dal terzo, secondo posto per Chirofobia di Martini Attili e Anastasio indiscusso al primo posto con la fine del mondo. Ragazzi che dire, ripeto, gli inediti sono stati secondo me tutti di buona qualità, non mi aspettavo che uscisse Renza, anche se probabilmente televisivamente parlando, lei e Naomi sono quelle un pochettino meno adatte per un certo tipo di pubblico, perché comunque presumo che il pubblico che guardi, che segue X-Factor sia nella stragrande maggioranza fatto di ragazzi e ragazze abbastanza giovani, sono loro che votano tramite social, twitter, applicazioni e quant'altro, quindi è abbastanza normale che il genere che fanno sia Noemi che Renza sia un pochettino un po' più raffinato, sì diciamo raffinato, un pochettino meno orecchiavile, ecco, gli altri brani sono un pochettino più di impatto, mi aspettavo peggio onestamente da Leo Gasman, che fino adesso non mi aveva entusiasmato, invece il suo inedito, tra l'altro scritto da lui, è ancora un po' acerbo, però comunque c'è del buono, la canzone è godibile, orecchiabile, è anche un bel significato, insomma un bel testo. Carino anche il singolo di Bowland, che onestamente però c'è uno abituato a sentirli con i loro brani abbastanza farciti di sonorità iraniane, da dove vengono loro, quasi magico, un trasporto, un trip, un viaggio che ti porta via in continuazione, questo qua è un pezzo molto più diciamo europeizzato, però devo dire la qualità c'è, secondo me avranno molta più fortuna all'estero piuttosto che in Italia, staremo a vedere, è il mio pensiero ovviamente, molto carino anche quello di Sherald Santos, anche se non è la mia preferita, però comunque è un bel brano e poi arriviamo a quelli che hanno veramente spaccato, Luna, Luna secondo me ha avuto la gran fortuna di avere il brano scritto e prodotto da due mostri sacri, che è Jake Lafuria ragazzi, uno può piacere o non piacere, però è un grandissimo del rap italiano, Mike Fish, Big Fish o come si chiama, è uno dei più grossi producer in assoluto, quindi ha avuto questa grossa fortuna, però lei è piccoletta sì, ma ci mette tanta tanta grinta e ne saliteremo ancora a parlare, giustamente ancora a 16 anni e avrà tempo di farsi tranquillamente, di crescere sicuramente. Bello anche il pezzo di Martini Attivi, anche se lo preferivo quasi piano e voce come ha fatto alle audizioni, ma probabilmente dipende dal fatto che una cosa è un'abituata a sentire in una certa maniera, poi come questa cosa ti viene un po' cambiata, al primo ascolto ti sembra un po' strano, poi magari ascoltandolo più e più volte si evince che comunque è una bella canzone, era bella prima e è rimasta bella anche adesso, solo che è stato arricchito un po' l'arrangiamento, molto bene, molto bene, molto bene, come benissimo, il mio preferito in assoluto, non lo negono, non lo nascondo, Anastasio è un pugno nello stomaco incredibile, questo ragazzo che non si sa se è un rapper, se è un cantautore, io ragazzi sono veramente, mi sono sia con lui che con Martini Attivi, mi sono emozionato, non credevo di poter fare ciò, era un pezzo che non mi emozionava con la musica, mentre mi ricordo che per l'una agli audition la sua voce mi mise i brividi e quando mi viene la pelle d'oca, quando ascolto una voce, evidentemente qualcosa di magico c'è al suo interno. Anastasio è tanta roba, scrive in una maniera clamorosamente bella, io spero che non vinca X Factor, perché solitamente è più successo chi non lo vince, però a parte gli scherzi, spero, anzi sono sicuro che questa vetrina di X Factor è stata molto importante per lui, anche lui ha avuto, mi sfugge il nome del produttore, perdonatemi, però ha avuto un produttore, Don Joe, eccolo, molto molto importante, però insomma di base, di buono già il testo c'era, la canzone c'era. Non si sa se è un rapper, non si sa se è un cantautore, però scrive maledettamente bene, tra l'altro ha creato anche le invidie di Fedez, ci può stare tranquillamente. L'unica cosa che mi viene da dire a questi ragazzi, la mia paura per loro, poi onestamente non mi spiega niente, però siamo qua e giustamente chiacchieriamo, in questo programma hanno avuto chi più chi meno il grosso aiuto di grossi produttori, di grossi nomi, insomma, il problema è quando uno nasce da lì dentro, perché poi dopo non c'è più Big Fish, Mike Fish che ti produce il brano, oppure non c'è Manuel Agnelli che ti scrive un testo o quant'altro, poi insomma diventa tutto molto più difficile. I più pronti a uscire in maniera definitiva, un po' come hanno fatto l'anno scorso i Maneskin sul mercato musicale italiano, sono Anastasio, perché ripeto, qua le basi i ragazzi sono veramente forti, scrive veramente bene, e non è che lì ci ha scritto un pezzo per pura fortuna, perché via via, nelle varie cover che gli hanno fatto fare, ha sempre scritto sopra queste cover, io mi ricordo in generale di, insomma, De Gregori, ha scritto una roba veramente fantastica, e quindi il più pronto lo vede lui, anche Martina Attili, devo dire, niente male, però anche lei è molto molto giovane, avrà tempo di farsi, comunque sia lei che Anastasio sono due grossi rappresentanti del disagio giovanile attuale, devo dire, gran bei pezzi. Niente, quello che devo dire l'ho detto, che poi in realtà ho detto poco, però insomma è una semplice analisi di quello che è successo ieri sera a X Factor, ripeto, non mi aspettavo scisserenza, però lo show è anche questo, decide il pubblico, e il pubblico evidentemente ha fatto le sue scelte, ripeto, lo vedono, te lo fanno vedere le classifiche, ho anche le visual che hanno avuto sul canale X Factor Italia, piccolo esempio, c'è le visualizzazioni che hanno avuto questi, nel frattempo parte la musica di X Factor, ve l'ho bannato a vita, esempio, Los Angeles ha avuto 191.000 visualizzazioni, Renza ne ha avuti 54.000, Sheryl ne ha avuti 85.000, Anastasio 430.000 visualizzazioni in poco più di 20 ore, quindi è abbastanza chiaro quello che ha deciso il pubblico. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscriviti, condividi, spam, dammi una mano a crescere con questo mio piccolo canale, ci vediamo sicuramente nei prossimi video, ciao!